Raffaello Grave è la nuova nata dell'Associazione Ciclo Ducale di Urbino, si terrà il 18 di settembre alla Fortezza Albornos con il polcoscenico favoloso di Urbino di fronte. È un evento che va a considerare un settore della bicicletta outdoor che sta prendendo piede in maniera esponenziale perché viene vissuta in maniera slow e attraverserà i territori delle campagne sulle strade sterrate, attraverso luoghi e borghi bellissimi, di conseguenza è una filosofia di vivere il territorio attraverso la bicicletta scoprendo le bellezze sia culinarie perché avremo due pitstop in aziende del posto, ma anche vedere magari delle scorci del territorio che sulle strade asfaltate non si vedono. Ci auguriamo di avere almeno 200 persone alla partenza perché poi dopo è un progetto quinquennale come abbiamo fatto con la Straducale, la partenza come dicevo prima è alle ore 8 per il percorso lungo perché ci sono due percorsi, un percorso da 100 km circa con 2000 metri di dislivello e un percorso da 64 km con 1200-1300 metri di dislivello. Nel percorso corto potremo far partire le e-bike perché anche quello è un settore in espansione. La Decathlon è un'azienda commerciale ma comunque il senso che ci muove è quello di rendere accessibile lo sport, quindi tutte quelle attività che possono avvicinare le persone allo sport per noi ovviamente sono preziose. La Raffaello Gravel chiaramente si conforma all'interno di questo nostro senso aziendale, quindi ci ha fatto piacere vedere la location, ci ha fatto piacere comunque notare quelle che sono le potenzialità della manifestazione e ci siamo immaginati un villaggio sportivo dove contemporaneamente alla manifestazione arricchire l'evento e consentire anche a chi in quel momento non sta praticando lo sport e quindi non è direttamente impegnato nella gara di fare sport. Immagino i partecipanti numerosi, so che saranno numerosi, potranno veramente apprezzare i nostri paesaggi, la nostra gente, la nostra comunità e tutta la passione che trasferisco l'associazione che è organizzato a questo evento. La manifestazione ha le caratteristiche tipiche del nostro progetto itinerario della bellezza, è un progetto che vuole valorizzare un turismo slow, un turismo lento per consentire ai turisti, ai viaggiatori di fermarsi sul territorio e vedere le tante eccellenze che il nostro territorio offre. Il gravel dà questa opportunità perché intanto non è una gara con vincitori, ma è un percorso che si fa in bicicletta, con vari tipi di biciclette, credo adesso io non sono un grande esperto, ma appunto rappresenta meglio di altri il turismo lento, quello che noi vorremmo che diventasse l'immagine un po' della provincia di Peso Rubino, è un turismo sostenibile che valorizza l'ambiente, valorizza i beni culturali, i beni no gastronomici.